Beh ecco, io penso, cioè mi è piaciuto molto l'intervento del professor Zamagni che ha, diciamo, posto il problema su un piano esistenziale, cioè di solito ci si aspetta che si facciano riflessioni sul futuro ma in senso lavorativo, ecco, proprio in quella chiave della ragione strumentale che lui ci ha ricordato, che però non è l'essenziale. Ecco, mi è piaciuto e me lo aspettavo che abbia parlato dell'educazione, ecco, quello che la scuola, io spero, continui a fare, forse attraverso il lavoro dei singoli insegnanti lo fa, però ecco, dovrebbe trovare degli spazi in cui valorizzare anche appunto la creatività, le proposte, i problemi, le idee, quello che il ragazzo vuole apprendere, le sue curiosità, ecco. Oggi, non so, dipenderà dalle scuole, però a volte questi spazi non sono valorizzati e concessi, anzi, sono un po' repressi, quindi speriamo, ecco, col moderato ottimismo che ci ha comunicato che sia davvero questa, ecco, la prospettiva futura, ecco. Così ci viene voglia di restare un po' di più, visto che hanno intenzione di tenerci a lungo, di insegnare.